Grazie per la visione! Dai Bocco, esco di questo T'acordato C'è stato molto vero Poi in piccola E la Copa Sud americana Qui in piccola è la base della mano di Cuasson Qui in piccola è il nord della provincia di Mendoza La regionista della Repubblica Argentina E l'estero in piccola La base della provincia di Mendoza a ver che è lo che passa perché allì vanno a stare per supuesto acelerando e lavorando cada uno di questi pilotos quando già tiene quando già tiene tutto listo ora si se riecomodano momento che vanno a medir per qui il Bolivar